Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Oh, no, no, se qui ne vediamo? Che c'è in questo modo? E? 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 Anc Lily Noi, noi, noi. Dio . Grazie a tutti. per davanti solo grazie Giorno! Ma sai che dovessi che vall'u chcc Commenti? Cagio! Cagio! Cagio, Cagio! Megalini Look! Ma devi vermi. Ah Motorradha! Fu e staré. Fu e staré. Fu e staré, innitato. Fu e staré. Fu oma che ha fatto un po' a teufa. Fu e staré. Fu e staré, con lo mie ma a chassi. Ciao. 65m �rri palle e gui. Molito, esi oma? Rapponi e gui, quindi? Sì. Sì. 2D. Ma è parecchio, sempre mi ha visto. Esistono. ah 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 ... ... ... ... ... ... ... Stai scopertano! Ciacchera, go bello. 3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-3-3-2-3-3-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3! O Orth Apostolini Alla prossima Si Alla prossima c'è 41650 41650 見たかったけどなぁ 間抜けなネズミ もう昨日には見つけてましたよ 早っ 発覚したのいつや 発覚したのが一昨日ですね はや 1日で見つけてるんじゃん やるね 探偵でもやったら 探偵がいるんですようちに 一人 探偵がいるんだ Sì. Sì. All in to rubare le cose per te la fare vuoi cosa che stai. Sì. 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 Arth media e il pietanico. Yes. Sì. 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 Finally ha! Sì. Ma come to play all around. Sì. ma sei in file la casa se mi gata se niente di file no la sua mi gai chata 残念 del e già eppure da con da io di sio ahaha doco maでも想定の範囲で乗っ da Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Milliken alelsa Olitsch! 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 Ya! Vani! Olitsch! 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 Sì Noi Noi Si chi è andato? Noi 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 Sosiste nee-san-ga-ta-la,もう,空からも地上からも誰も入って来れなくなる 中 大き...開いてるかやみてみていい? 中 行くようね 中 小拠点 死んだねごめん 中 成人 終わってる! 中 終わってる!? 中 Sì? Sì. 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 Non c'è nessuno Sì, ce l'è il giusto di un'impasto. Ah, il giusto di un'impasto, ma che ti prendi l'impasto? Ah, se poterete anche se poterete, ma che ti prendi l'impasto. Se poterete anche se poterete. Allora prima, prima di prima! Hai ragazzi? Grazie a tutti! Ah! もう宝石持ってきちゃった! もう何やってんの? 無線入ってますよ あ、え? あ、すいません ブルパッ ブルパッ あ、もう宝石持ってきちゃったよー あ、下がるかも、これワンチャン 上がっていったね 天井! 帰ってきた、帰ってきた 絶対に諦めてたまるものがある 絶対に諦めてたまるものがある 帰してー ここ頑張って ちゃんと説明的に 蒸気の温熱シート え? 温熱シート 温熱シートって考えてるやつが多い 蒸気の温熱シートって何? 蒸気の温熱シートって何ですかね 蒸気の温熱シートって 何?ボア 蒸気の温熱シートです